Ehi, ciao amici esploratori, mi riconoscete? Sono il professor Knight e ti accompagnerò lungo questa emozionante e pericolosa avventura. Siete pronti? Wow, che spavento! Tranquilli amici, questi esemplari sembrano piuttosto pacifici. Un'omeisauro e due simpatici androsauri. Guardate, un insieme di cuccioli e di dinosauro. Nulla da temere. Esploratori, possiamo proseguire. Oh, una bella famiglia di Stegosauro. Uh, tendi alla coda! Per adesso, tutto tranquillo. Salutate i vostri amici qui fuori. Ciao! Silenzio ora, alla vostra destra, il nostro esemplare adulto più grosso di omeisauro. È enorme! Da questa parte, un magnifico triceratum con il suo picco. Se non li ritroviamo, passeremo senza problemi. Oh, attenti esemplatori! Un possente anch'ilosauro! Non facciamolo arrabbiare, mi raccomando! Ehi, ma chi sono loro? Le cose si mettono male! Questi pterosauri non hanno la faccia molto amichevole! Io scappo! Ehi, ma chi sono loro! Ehi, ma chi sono loro! Avete fatto il bagno? Mirano, restiamo in silenzio. Siamo nel regno dei carnivori! Raptor, ovunque! Dinofosauri! Ehi, attenti adesso! Un grande esemplare di T-Rex! Proprio sopra di noi! Shhh! Fate silenzio! Un grande esemplare di T-Rex! Tra poco vedrete la nostra via di T-Rex! Tra poco vedrete la nostra via di T-Rex! Proprio vedrete la nostra via di T-Rex! Modelleni da varie a leери della T-Rex così grande! Grazie a te! No, in hoi, in hoi, in hoi è barna... Con ... Meno male, l'abbiamo scappata per un pelo, esploratori, ora non ci rimane che scappare da questo pericolosissimo posto, evviva amici, siamo salvi, anche se un po' bagnati, spero che vi siate divertiti in questa fantastica avventura nel Jurassic River, ora dobbiamo salutarvi, ma voi tornate a trovarci più presto, vi aspettiamo, ciao esploratori!